3.200 interventi, 25 corsi per rischi e emergenze aziendali, 456 servizi di vigilanza antincendio. Sono questi i numeri totalizzati in un anno dei Vigili del Fuoco, numeri resi noti durante la cerimonia per la Patrona del Corpo, Santa Barbara, alla presenza del Prefetto e delle altre forze dell'Ordine. 1.979 sono stati gli interventi realizzati dalla sede centrale a Cremona, ben 1.176 invece dal distaccamento di Crema, solo 45 dal distaccamento di Piadena-Drizona. 689 soccorsi persona, che sono tra gli interventi effettuati quelli più numerosi, 607 gli incendi e le esplosioni, 376 gli incidenti stradali, 236 la verifica statica degli edifici, 167 quelli per danni provocati dall'acqua, 18 le emissioni di sostanze inquinanti. Un grosso grazie insomma è il minimo sindacale.